Mister De Candia, c'è un ritorno importante intanto nel Barletta che sfida il Ginosa? Sì, c'è il ritorno di Giambuzzi, perché finalmente l'abbiamo a disposizione, l'abbiamo avuto a disposizione nella partita di Alberobello e poi anche in una partita di Cassa Ringa che adesso mi sfugge, che è partita con Massafra, però adesso il ragazzo si sente, lì era quasi una forzatura perché lui voleva esserci a tutti i costi, adesso lui è disponibile al 100%, mi auguro che da qui alla fine dell'anno non si fermi più perché è un recupero fondamentale, è un acquisto di dicembre, mettiamola così. Dal punto di vista dell'infermeria, come è la situazione? Ci sono altri recuperi rispetto a domenica? Sì, c'è il recupero di Lattanzio e Cassiella che venivano da questa gastroenterite che li ha costretti a dar forfè una partita di domenica e il recupero di Lopez, che tra i disponibili, non abbiamo recuperato ancora Baio, ma è roba di giorni, penso che domenica prossima, se non domenica già nel turno di Coppa l'abbiamo recuperato. Siete tornati alla vittoria contro il Gallipoli, lei ha parlato anche in conferenza di alcune analisi ingenerose nei confronti del Berletta, restano dei numeri importantissimi, 48 punti su 54 ottenuti. Sì, quello fa piacere questi numeri, però come ho detto dal primo giorno, questi numeri non portano a niente, è anche il discorso che adesso abbiamo un vantaggio che sembrerebbe cospicuo sulla seconda, però non ci lascia tranquilli perché sono tutte squadre attrezzate, attrezzate a far bene, ben allenate tutte, quindi possono tranquillamente mettere dentro armi sportive importanti per cercare di ostacolarci. Quindi il vedere che anche noi da soli ci possiamo mettere degli ostacoli mi sembra un paradosso perché noi tutto possiamo fare che tranne che andarci a creare dei problemi sarebbe veramente da stupidi, quindi ecco perché mi sono lasciato andare a quella disamina un po', ecco, l'ho detto, avevo un po' di rabbia perché più che altro per i ragazzi, perché loro l'unica parola ce l'hanno sul campo e credo che sul campo stiano facendo più che bene e di più non possono fare e li dobbiamo anche lasciare la possibilità di sbagliare, l'hanno sbagliato pochissime volte. Siamo una squadra che abbiamo fatto credo più gol, sicuramente abbiamo preso soltanto quattro gol in campionato, quindi andare a rimarcare una prova opaca da persone a noi vicine mi è sembrato qualcosa di poco equilibrato. quindi non cerchiamo pacche sulle spalle in questo momento perché non abbiamo raggiunto niente ma non ci aspettiamo neanche delle parole che possono un pochettino destabilizzarsi. Infine tre partite di fine in casa, adesso in otto giorni tra campionato e Coppa, sfruttare il fattore Puttilli per chiudere al meglio il 2024? Sì, noi dobbiamo sfruttare per forza il nostro campo, perché il nostro campo non è un campo normale, è un campo che quando si riempie ti spinge, è un vento che soffia le spalle, quindi lo dobbiamo sfruttare per cercare di chiudere in bellezza questo anno solare, lo dobbiamo alla società, alla città di Barletta, a noi stessi che ci sacrificiamo giorno per giorno, ma se permettetelo anche, soprattutto dei tifosi che semmai hanno vissuto un anno un po' particolare con una coccente delusione, quindi almeno non andremo mai a pareggiare quella situazione, però almeno ad alleviare un pochettino quella situazione sì, e quindi dobbiamo provare in tutti i modi a terminare l'anno solare nel miglior modo possibile.